San Benedettese campo basso 1 a 0, due minuti dalla fine per un fallo di mano in area del campo basso, l'arbitro signor Gabriele Di Prato concede un calcio di rigore ai padroni di casa, dopo le rituali proteste si incarica del tiro Borgonovo e sigla il gol della vittoria per i marchigiani.